Io do il benvenuto, il buongiorno a tutti quelli che si stanno collegando, io appunto come ho detto vi do il benvenuto, questo è il primo dei tre seminari che abbiamo in programma organizzati dalla sezione territoriale Toscana-Umbria-Marche di AIAP. In questa sessione primaverile abbiamo appunto in programma tre seminari, uno al mese, quindi maggio, giugno e luglio. Oggi inauguriamo il primo con Filippo Piva che è introdotto da Simonetta Zanon e infatti lascio subito a loro, a Simonetta la parola. Innanzitutto vi ringrazio entrambi per aver accettato il nostro invito, noi come sezione territoriale siamo veramente molto onorati di ospitare non toscani, umbri e marchigiani nel nostro consesso di amici e colleghi. Mi spengo il microfono e lascio la parola a Simonetta Zanon che ringrazio. Grazie Antonella e buon pomeriggio a tutti, grazie all'AIAP in particolare alla sezione toscana-Umbria-Marche, ma veramente grazie a te Antonella per l'invito, per aver organizzato questa bella iniziativa. Il compito di introdurre brevemente naturalmente Filippo Piva mi piace molto per due ragioni, almeno due. La prima è perché Filippo rappresenta secondo me al meglio quella che è la professione del paesaggista in Italia oggi e dunque presentarlo, introdurlo è un onore. Ma la seconda ragione è quella a cui forse tengo di più e mi piace condividerla con voi ed è il fatto che Filippo per me è anche un amico di quelli che insomma magari non vedi spesso per forza di cose, però quelle persone che sai che ci sono e sai che poi ogni volta che c'è l'occasione di vedersi, e questo in genere succede andando a spasso per giardini o parchi oppure in qualche bel convegno, sai già che sarà bello, stimolante, anche divertente. Con Filippo è sempre così e penso che poi sarà così anche la sua conferenza di oggi. Filippo Piva per chi non lo conosce perché poi presentarlo, ma insomma Filippo è abbastanza noto e penso che tante persone lo conoscono, però insomma è anche giusto presentarlo come merita. Ecco, Filippo ha la sua base di lavoro e di vita a San Marino, però è persona molto mobile, sia come professionista con il suo studio Pampa, Progetto Ambiente e Paesaggio, di cui è uno dei fondatori, uno studio importante anche che ha focus di lavoro sulla progettazione paesaggistica di spazi pubblici e privati, ma anche sulla progettazione ambientale, sulla valutazione di impatto ambientale, forestazione, ingegneria naturalistica, insomma tutta una serie di tematiche interessanti che penso poi lui vi spiegherà. Quindi dicevo, è molto mobile come professionista con il suo studio Pampa, ma è molto mobile anche come viaggiatore, come viaggiatore un po' in tutto il mondo, secondo una sua vocazione quasi e attitudine che poi generosamente ha messo anche a disposizione degli altri, organizzando infatti assieme ad Anna Chiara Vendramin con l'associazione Mille Papaveri dei viaggi studio dedicati a luoghi vicini e lontani, anche molto lontani, che hanno permesso a molti di noi, agli appini, ma non solo, ne ho visti qua già alcuni, con cui abbiamo condiviso queste magnifiche esperienze di esplorazione nei luoghi, nei luoghi più diversi, esperienze davvero straordinarie per le quali io veramente sarò sempre grata a Filippo e spero anche di poterle riprendere sinceramente al più presto. Vedo che annuisci, spero che sia vero e non di cortesia, aspettiamo tutti. La formazione di paesaggista di Filippo, ecco, parte dalla sua laurea in scienze agraria qualche annetto fa, diciamo, ma è una formazione che Filippo ha continuato sempre, diciamo, dopo la sua tesi in paesaggistica, Parchi e Giardini all'Università di Bologna, ha continuato come i paesaggisti poi fanno, con corsi di perfezionamento, workshop, esperienze formative varie, che l'hanno portato addirittura, pochi mesi fa nel 2020, a laurearsi di nuovo in architettura del paesaggio all'Università di Firenze, con una tesi in restauro del giardino storico, quindi veramente chapeau a Filippo. Conoscendolo, conoscendolo un po', insomma, quasi penso che questo traguardo così importante, così prestigioso non sarà comunque l'ultimo, perché poi Filippo è uno che non si ferma mai. Quindi ho accennato alla sua attività importante di progettista, a quella di esploratore di luoghi, di parchi, giardini, paesaggi, però voglio anche ricordare molte collaborazioni che Filippo fa nel campo della didattica del paesaggio, quindi collaborando con numerose università, Bologna, Firenze, l'Università UAB di Venezia, Milano, dove porta la sua esperienza a corsi universitari oppure a master, ma la stessa cosa anche per enti privati, quali ordini degli architetti o quali altre istituzioni dedicate alla formazione in questo campo, ma anche partecipa, ha partecipato a numerosi convegni e seminari vari, tra i quali il più importante, a mio avviso, che non si può dimenticare, è stato il meeting internazionale dei maestri del paesaggio di Bergamo nel 2017, che in qualche modo ce lo ha consacrato proprio come maestro. Insomma, lo dico veramente con orgoglio, Filippo si è meritato quel pubblico, quella situazione molto bella alla quale ero presente. Filippo Piva è anche ovviamente socio AIAP, attivissimo però come socio, va detto sia nella nostra sezione per Triveneto Emilia Romagna, di cui è stato anche vicepresidente, sia è molto attivo anche a livello nazionale. Su questo posso ricordare l'impegno gravoso per il comitato scientifico cooperativo del congresso mondiale IFLA nel 2016, qui insomma c'è chi l'ha portato avanti, Anna Letizia, che saluto, ma anche Filippo ha fatto parte di quell'avventura. E parlando del suo impegno in AIAP, mi sembra giusto qui ricordare anche la grande disponibilità che ha sempre nei confronti della rivista dell'Associazione Architettura del Paesaggio, alla quale ha sempre contribuito generosamente, almeno da quando ci lavoro io, Antonella lo sa che abbiamo condiviso tre anni di questa altra avventura, insomma in questi cinque anni Filippo ha sempre contribuito molto generosamente con contenuti di qualità, come d'altra parte di qualità e il suo lavoro. Quindi prima di passargli la parola e senza voler anticipare i contenuti della sua relazione, volevo dire veramente due cose, una nota brevissima sui suoi lavori, su alcuni punti che mi sembra bello richiamare. Allora uno è quello del dialogo, del dialogo con altre discipline con cui Filippo e Pampa Studio in genere affrontano poi il lavoro di progettazione e di cantiere e è una cosa che non va sottovalutata secondo me, cioè comunque lo studio è uno studio dove le competenze sono importanti e diverse, ciò nonostante è uno studio che a sua volta dialoga spesso e quindi la necessità di una pluridisciplinarietà e anche la capacità di misurarsi, diciamo così con il progetto di paesaggio a scale molto diverse, in contesti molto diversi e ogni volta mostrando naturalmente una grande competenza, appunto una capacità di dialogo, la creatività che fa parte sempre dell'invenzione di un progetto, ma anche la passione, la dedizione possiamo dire e alcune qualità più speciali, non che queste siano scontate, però alcune qualità speciali come soprattutto saper mettere insieme l'attenzione al passato con lo slancio invece innovativo, lo sguardo lo sguardo al futuro, lo vedrete nei progetti che vi presenterà e anche mostrano i suoi progetti il suo modo di lavorare, una grande capacità di comprendere i luoghi, di capirli, di capirne il genio diciamo così e quindi anche di saper gestire tutta una serie di problematiche più o meno complesse che però ogni volta sono diversi, in ogni luogo richiedono poi di porsi con strumenti, attrezzi e attitudine diversa, perché alla fine forse proprio se parliamo di essere un paesaggista non è poi così importante rifarsi a una professione o a un corredo disciplinare così univoco, così ben definito, ma è proprio l'attitudine, no? Essere un paesaggista, è proprio avere questo sguardo sulla natura da una parte, sulla vita delle persone che poi abitano nei luoghi ed è un'attitudine, uno sguardo che secondo me nei lavori di Filippo si percepisce molto bene, infatti i suoi lavori, quelli che io conosco soprattutto attraverso la rivista, poi prima o poi riuscirò anche spero a vederle alcune cose, però in questi lavori di Filippo io ho sempre ritrovato molti significati, di quei significati che il giardino dei nostri tempi contiene, che il giardino contiene se, come fa Filippo, non andiamo a leggere questo luogo come un ambito protetto e rassicurante di natura domesticata, questo ci piace ma non ci basta più, nei nostri tempi il giardino può essere veramente un luogo in sintonia con le contraddizioni, con le contraddizioni anche forti, le tensioni che i nostri tempi ci presentano, ma può essere proprio un luogo che queste contraddizioni, queste tensioni cerca in qualche modo di ricomporre e questo è un elemento davvero importante che fa sì che questi luoghi che Filippo progetta, che corrispondono un po' a un'idea attuale di giardino, diventino quindi luoghi di relazioni ecologiche e sociali significative di sperimentazione, luoghi nei quali dialogano mondi diversi, poi quando vedrete i progetti capirete cosa intendo di più, luoghi nei quali è possibile fare un'esperienza diretta con la natura, luoghi di benessere ma poi anche perché no, luoghi di sollecitazione culturale per le persone, di impegno civico anche se serve. E quindi in questo senso mi avvio comunque veramente a concludere, ho parlato anche troppo, per esempio citando uno dei lavori più recenti, so che è uno di quelli di cui poi Filippo parlerà e che presenteremo anche, che presentiamo nel prossimo numero in uscita della rivista Architettura del Paesaggio con un articolo del collega Gerardo Sassano. Ecco in questo lavoro Intrecciare il Tempo è veramente interessante quello che ha fatto Filippo e non ve lo anticipo perché lui lo sa spiegare sicuramente meglio di noi, però resto sul titolo, a me piacciono molto le parole, Intrecciare il Tempo è veramente un nome bellissimo per un progetto, un progetto che è stato svolto appunto dallo studio Pampa assieme a un artista in questo caso, quindi vi parlavo un po' di questa importanza che si dà al dialogo, un progetto che ha vinto nel 2019 la terza edizione di questa manifestazione molto bella che si fa a Eboli, in questo momento non mi ricordo il titolo ma avete capito, poi comunque lo dirà Filippo. Ecco Intrecciare il Tempo veramente ci spiega come si possa dare veramente senso alla memoria come punto di partenza di un progetto, una memoria che però è uno strumento per riscoprire, rivalutare le proprie radici in luoghi che sono poi i luoghi quotidiani, quindi Intrecciare il passato, guardare il futuro, riconciliarsi soprattutto in questo progetto con il passato per poter guardare al futuro, però Intrecciare poi a me piace molto anche perché è un termine che ci rinvia anche alla fisicità del nostro rapporto con i luoghi e anche del modo quindi di progettarli, ma ci sono molti altri lavori davvero interessanti di Filippo, esemplari di questo sguardo così innovativo sui luoghi, di questa sua diciamo attitudine sperimentale e scientifica, perché Filippo è uno che studia molto, che poi va ad arricchire quella che è una valenza estetica, una valenza ecologica che comunque è sempre presente, ma insomma si alimentano, si nutrono una dell'altra e in questo senso, quindi parlando anche dell'attitudine più sperimentale, più scientifica, c'è questo lavoro molto bello che abbiamo pubblicato nella rivista Fatto in Salento per la masseria Gianferrante. Questo lavoro lo vedrete, è veramente interessante proprio per la capacità di riguardare con uno sguardo sensibile e intelligente a un paesaggio che è stato modellato dall'agricoltura e quindi come dire, con un linguaggio, quello dell'agricoltura che resta imprescindibile, resta l'unico possibile al quale rifarsi in questo tipo di contesto, però nella situazione attuale prevalgono preoccupazioni dovute proprio a questa contemporaneità, a cui accennavo prima in questo caso la situazione di un territorio che è ad alto rischio di desertificazione, quindi la necessità nel rifarsi a quello che è il linguaggio storico, quello dell'agricoltura, però di proporre un cambio di paradigma perché non è più possibile concedersi un certo modo di svolgere l'agricoltura e quindi questo progetto era veramente perfetto per il nostro numero 38 della rivista intitolato Changes, plurale, perché non si andava a approfondire e a parlare del tema del cambiamento, cioè quello climatico, che poi più che un cambiamento è una crisi, ma Changes, cioè si andava a approfondire i cambiamenti, cioè quei cambiamenti plurale che oggi sono necessari e nei quali noi tutti possiamo per la nostra parte essere soggetti attivi e così potrei andare avanti ma state tranquilli che sto chiudendo, non cito, non continuo così, però i lavori di Filippo dal campo della fiera Sant'Arcangelo di Romagna, che spero di vedere davvero prima o poi, ai vari giardini, chiamiamoli aziendali come quelli per la Ducati, per Scrigno, oppure l'Ecoarea, Better Living, eccetera, tutti questi giardini consapevoli, sono veramente giardini consapevoli, quindi bello anche il titolo di questo seminario e quindi a questo punto chiudo e non voglio davvero togliere altro tempo alla presentazione e sono certa che la lezione di Filippo sarà entusiasmante e arricchente per tutti e quindi ridò la parola a Antonella o a Filippo, non so come siamo d'accordo e grazie ancora per essere tutti qua con noi. Sì, grazie Simonetta. Filippo puoi andare direttamente, grazie veramente Simonetta. Grazie Simonetta, mi sento molto lusingato da queste parole e sono preoccupato di non essere all'altezza della presentazione perché effettivamente sono state proprio delle belle parole. Condivido lo schermo. State vedendo, date conferma. Sì, grazie. Allora, partirei proprio da questo titolo che abbiamo condiviso nell'organizzazione di questo mio intervento e proprio da questa parola consapevole, consapevole da intendere in vari significati. Fondamentalmente mi interessava una consapevolezza legata proprio alla pratica della professione paesaggistica, cioè il fatto che noi come paesaggisti spesso dobbiamo avere tante consapevolezze diverse, dobbiamo avere delle consapevolezze scientifiche, ad esempio nella scelta della vegetazione, nelle associazioni vegetazionali che siano congrue con gli ambiti in cui ci troviamo a operare, che siano adatte alle condizioni ambientali, pedoclimatiche. Questa consapevolezza anche di gestire materiali vivi e materiali inerti, quindi il dialogo continuo è la ricerca dell'equilibrio fra il minerale e il vegetale, fra il costruito e il naturale, ma anche consapevolezze puramente tecniche. Pensate quanto un paesaggista in realtà nel fare un segno su un foglio quando progetta si trova spesso a sottintendere tante informazioni che ha accumulato nella sua professione. Io penso quando uno sa che quel giardino dovrà essere irrigato artificialmente o dovrà avere un tipo di manutenzione fatta in un modo piuttosto che un altro, già quando disegna la vegetazione, i camminamenti e tutto quanto, ha un background culturale, tecnico, che gli fa fare delle scelte piuttosto che delle altre. E di solito fa parte di un'esperienza che alla fine diventa sottopelle, che non è chiaramente dichiarata in ogni progetto, in ogni esposizione, però sono tutte consapevolezze che sono molto importanti nella nostra professione. Altra consapevolezza, perché sono state usate belle parole nei miei confronti, e qui in questa slide è presa dal nostro sito web, è la consapevolezza che non si lavora da soli, ma si lavora sia con i propri colleghi di studio, e molto spesso i risultati si ottengono proprio perché ci sono più persone che alla fine fanno confluire idee, capacità all'interno di un progetto. Ma poi si collabora anche con tante persone che fanno parte di una costellazione esterna, di professionisti che di volta in volta vengono coinvolti nel fare il progetto al meglio. E questa consapevolezza poi deve essere anche rivolta al fatto che, come raccontava di me prima Simonetta, anche il fatto di viaggiare, di osservare, di non smettere mai di imparare, e di rendersi conto che la consapevolezza di cui vorrei parlare oggi con i quattro progetti che vi mostrerò, che sono quattro progetti di cui tre già pubblicati su Architettura del Paesaggio e uno sarà sul prossimo numero. Sono progetti che possono essere anche guardati come atteggiamenti di approccio consapevole nei confronti del cambiamento climatico, della crisi climatica, come giustamente diceva Simonetta, ma anche di un'altra consapevolezza, che è quella di noi professionisti che lavoriamo sul territorio, di poter fare in ogni intervento, dalla piccola scala alla grande scala, riuscire a dare un piccolo contributo nel migliorare le capacità dell'ambiente complessivo, che sia ambiente agricolo, che sia ambiente urbano, che sia qualsiasi tipo di ambito, riuscire a renderlo migliore dal punto di vista climatico, dal punto di vista della qualità dei luoghi dell'abitare. Qui ho voluto prendere alcune immagini che ci saranno un po' di ispirazione, cioè tecniche antiche legate per esempio all'arido cultura, non so, vediamo un giardino pantesco della zona di Pantelleria, ma le stesse tecniche le troviamo anche nell'isola di Folegandros, dove ho avuto il piacere di incrociare una di queste costruzioni, che fondamentalmente, anche se hanno delle modalità arcaiche a livello costruttivo, in un piccolo cerchio di rocce in cima al crinale di quest'isola delle Cicladi, al suo interno era presente un agrume e si entrava all'interno di questo cerchio di pietre attraverso una porta e dentro c'era un piccolo pollaio. Praticamente in pochi metri quadri la famiglia aveva costruito un ecosistema agricolo con un'economia circolare che funzionava di continuo, gli scarti alimentari andavano alle galline, le galline mangiavano, concimavano la pianta, la pianta cresceva, le pietre catturavano l'umidità dai venti provenienti dal mare e distribuivano l'umidità al suolo per irrigare la pianta. Quindi tutta questa consapevolezza antica in realtà in qualche modo dobbiamo farla diventare nostra e riscoprirla. In questa immagine vediamo uno di questi casi, siamo vicini proprio alla masseria di cui vi parlerò tra breve, siamo nel comune di Ugento, alcune persone hanno costruito questo impianto ispirandosi a tecniche antiche sviluppate nel deserto del Negev in Israele e questa installazione agricola si chiama Orto dei Turat e non è fatto altro di una costruzione di questi muri emiciclici che non fanno altro che raccogliere i venti umidi che arrivano da Scirocco e da Libeccio e fare confluire per condensazione l'umidità atmosferica all'interno del terreno per irrigare gli alberi da frutto che verranno posizionati al centro di ogni emiciclo. Tutte queste tecniche, ho voluto prendere una frase di Pietro Laureano presa dal suo libro La piramide rovesciata, il modello dell'Osi per il pianeta Terra proprio perché la trovo estremamente adatta per spiegare di fronte a un cambiamento climatico, ai problemi della desertificazione, ai problemi di approvvigionamento delle risorse primarie, dell'utilizzo dell'acqua a fini irrigui e i problemi appunto di costruire e progettare spazi verdi che siano sempre più sostenibili e questa frase detta appunto da Laureano recuperare oggi l'antica sapienza che si avvale di materiali poveri e di tecniche ingegnose significa dare al pianeta una possibilità in più di sopravvivere. Quindi cercare di attingere anche dai temi delle esperienze antiche legate alle tradizioni proprio culturali dei paesi più estremi. Appunto iniziamo a parlare di questo primo progetto che è la Masseria Gianferrante, siamo nel Finisterre italiano, siamo nel Tacco d'Italia, a metà strada fra Leuca e Gallipoli e l'intervento prevede appunto il recupero e la progettazione paesaggistica di un ambito di un'azienda agrituristica biologica certificata che si sviluppa attorno a una torre normanna di avvistamento originaria del XII secolo che nel tempo ha perso il suo scopo di elemento difensivo di avvistamento e pian piano si è trasformata in una masseria fortificata con dimore per gli agricoltori, ovili e paiare che sono costruzioni tipiche del Basso Salento. Il paesaggio in cui ci troviamo a intervenire è un paesaggio praticamente completamente coperto dalla monocultura dell'olivo o almeno lo era quando iniziamo questo lavoro. Attualmente il paesaggio sta cambiando a seguito del codirò appunto del complesso del dissecamento rapido dell'olivo che ha fra le sue cause o con cause appunto il batterio xylella fastidiosa che sta praticamente depauperando tutto il patrimonio olivicolo del Salento e per un paesaggista è una cosa strana soprattutto per un paesaggista come me che frequenta il Salento oramai da diversi anni perché un paesaggio costituito principalmente da un albero sempreverde quando quel sempreverde diventa spogliante ma spogliante perché si sta disseccando cambia completamente la percezione degli spazi, delle profondità delle permeabilità visive che erano completamente inaspettate e quindi forse per gli agricoltori ma anche per i paesaggisti si sta offrendo di fronte a questa tragedia agricola di un territorio così consolidato l'opportunità anche di ripensare paesaggi che siano congrui con le risorse di questo territorio ma soprattutto cambiare il passo nei confronti delle modalità di coltivazione. infatti probabilmente la monocoltura perpetrata per così tanti anni e le tecniche agricole così depauperanti nei confronti del suolo hanno aiutato forse a rendere così patogeno un batterio che era già presente nel territorio e quindi forse quello che stiamo facendo in piccolo anche in questo agriturismo potrebbe diventare una piccola sperimentazione anche da espandere. Le foto che vedete sulla destra appunto sono le foto del periodo in cui facciamo il primo sopralluogo quindi un classico giardino di cactacee, di yucche, di palme un po' da seconda casa nel sud Italia. ci sono dei temi progettuali che sono importanti quando ci si trova a lavorare nel sud dell'Italia perché l'ombra ad esempio come vediamo in questa immagine diventa un tema prioritario diventa importantissimo riuscire a portare benessere e quindi diminuire le temperature e portare il refrigerio negli ambiti della vita quotidiana quindi riuscire a portare questo tipo di refrigerio. Un altro tema importante è quello dell'utilizzo della pietra il Salento è fondamentalmente un territorio di pietra è un territorio dove troviamo chilometri e chilometri di muretti a secco ricavati con il duro lavoro di generazioni di contadini che hanno dissodato i terreni per riuscire a tirare fuori del suolo fertile per riuscire a fare le coltivazioni e per riuscire ad avere il loro sostentamento e qui è successa la stessa cosa perché nel lavorare in questo spazio ci siamo trovati a trovare tanta pietra e questa pietra è stata materiale di riutilizzo e di costruzione di nuovi muretti a secco che hanno costituito i recinti hanno costituito dei muretti di contenimento quindi hanno fatto parte di tutto un processo progettuale. Mi piace citare una frase di Luigi Corvaglia che in un suo saggio che si chiama Finibus Terre definisce così il territorio salentino dice il Signore per dare forma all'anima salentina scelse la pietra ed effettivamente oggi che tutta quella coltre di vegetazione sempreverde che era proprio l'olivo si sta spogliando e sta diventando permeabile effettivamente sta venendo alla luce tutto questo reticolo di muri a secco che diventano la vera ossatura di questo territorio e svelano effettivamente tutta l'anima contadina di un territorio che è fortemente disegnato dai popoli che l'hanno vissuto. Un altro tema che bisogna comprendere lavorando nel Sud Italia è la luce la luce ha un'intensità tale che normalmente può arrivare a dare fastidio può essere eccessiva e quindi permette di poter fruire di colori che magari ad alte latitudini diventano eccessivamente forti eccessivamente sgarzanti e invece in questi ambiti i colori che potrebbero urtare la nostra sensibilità visiva diventano congrui e diventano corretti guardate questa bougainville magari vista su un terrazzo milanese può diventare una colorazione eccessiva ma di fronte alla pietra calcarea della torre di fronte ai fori della colombaia riesce a dare questa piacevolezza del contrasto senza essere sgargiante e questo vale un po' per tutti i colori un po' più accesi che diventano più compatibili con la nostra percezione rispetto ad altri ambiti il cuore del giardino è nella prima cinta muraria che racchiude la torre storica d'avvistamento e in questa prima cinta muraria più alta c'è una sorta di scrigno di pietra al cui interno abbiamo sviluppato quattro giardini tematici legati agli elementi quindi fondamentalmente abbiamo dato il tema al giardino esposto ai venti da nord il tema del vento e qua abbiamo utilizzato piante che abbiano una certa flessuosità e effettivamente assecondino il movimento della spinta del vento e qua utilizzando diverse specie di graminace anche ornamentali ma non solo ci siamo anche avventurati nel cercare piante graminace che ci sembravano particolarmente adatte per un utilizzo all'interno del giardino raccogliendole anche dai bordi della strada cioè scegliendo delle piante che ci sembravano non prodotte a livello vivaistico ma ci sembravano per le loro caratteristiche viste nelle varie stagioni adatte a un utilizzo anche di tipo ornamentale altre zone come questa ad esempio riguardano spazi questa ad esempio è la zona dedicata all'aiuola dell'acqua quindi ci sono dei colori più legati al blu al bianco comunque ha un effetto anche compositivo che assomiglia quello appunto di cuscini di acqua di cuscini di un ondeggiamento proprio della vegetazione e sempre vedete il rapporto fra il minerale e il vegetale quindi questi rapporti visuali continui fra quello che il disegno del materico della pietra e il disegno vegetale normalmente mi piace rapportare le due cose in maniera anche conflittuale nel senso che il segno deciso della pavimentazione o della parte costruita spesso viene contraddetto e negato dalla morbidezza della crescita delle piante quindi questo gioco di equilibri costante fra i due modi di intervenire sul progetto di paesaggio un'altra iuola è quella sul fronte della torre di avvistamento ed è quella dedicata al fuoco dove fondamentalmente a fianco di colorazioni di fioriture che vanno dal rosso al giallo all'arancione c'è un utilizzo preponderante di fogliami che ricordano appunto delle fiamme quindi delle agave delle collezioni di yucche e di altre tipologie di piante che abbiano appunto questa apparenza legata al tema del fuoco infine c'è anche un'aiuola dedicata alla terra dove ci sono un po' tutte le piante tipiche della gariga della macchia salentina ci siamo sbizzarriti in questo progetto anche nella ricerca di vegetazione come vi dicevo non tipicamente prodotta in vivaio ad esempio queste infiorescenze nella foto in alto centrale in alto queste infiorescenze di urginia marittima che fondamentalmente volgarmente detta scilla marittima non è altro che un cipollone che nel sud Italia soprattutto in Salento si incontra spesso cresce in mezzo ai terreni sassosi una pianta tipica di gariga un grosso bulbo grosso più di una palla da baseball come dimensione e quando si va in vacanza in estate si vede solo questo cipollone che affiora e nessuno riesce a capire bene che cosa faccia in realtà questa infiorescenza dalla cipolla fuoriesce per un metro un metro e mezzo e diventa quella pianta che state vedendo in quell'immagine e ha una fioritura verso settembre che è veramente incredibile finita la fioritura il fiore si dissecca e emette delle foglie alla sua base queste foglie rimarranno operative per tutta la stagione invernale quindi faranno fotosintesi per tutto l'inverno finché all'arrivo del nuovo caldo nel periodo estivo spariranno nuovamente per tornare in questa forma di sopravvivenza estiva in un territorio difficile come quello della gariga salentina per riuscire a superare questo questo periodo al sicuro dopo aver organicato delle sostanze nutritive perché vi ho raccontato questa storia perché effettivamente c'è una consapevolezza della pianta mediterranea e ci dice tante cose su come ci dobbiamo comportare nei confronti di questi ambiti ci sta dicendo che l'estate è molto caldo e quindi è meglio stare tranquilli e non cercare di fare tutto quanto in quel periodo lì ci dice che verso settembre ritorna del fresco e quindi faccio lo sforzo più grande che posso fare che è quello di andare crescere un metro e mezzo per andare a fiore e disseminare i miei semi lontani e poi nel periodo invernale che ci sono un po' più piogge cerco di tirare fuori la mia parte fotosintetica i miei pannelli solari e li faccio lavorare per tutto l'inverno quindi questo è un esempio di una pianta che ci racconta come ci dobbiamo comportare in un in un ambiente estremo dove la quantità d'acqua durante l'estate è pochissima dove le temperature sono altissime e dove bisogna cercare di fare tesoro di tutto quello che l'inverno ci dona per poterlo riutilizzare durante l'estate qualcuno deve aver segnato lo schermo con dei segni questo il progetto no scusami Filippo se infatti vedevo anch'io però non so come sia potuto succedere nel senso non so da dove deriva a me non disturba quindi non questo schema spiega un po' il tema di tutto questo progetto non solo il progetto dal punto di vista paesaggistico ma della sua concretezza e della sua possibilità di sopravvivenza vedete la torre in posizione centrale tutte le parti abitative dell'agriturismo e un'evoluzione che abbiamo ipotizzato in questo ambito della gestione delle acque praticamente quasi tutte le abitazioni perse nella campagna salentina hanno delle grandi cisterne dove confluiscono tutte le acque nere cioè un pozzo nero dove periodicamente viene una cisterna un autobotte un autospurgo prende le acque reflue e le porta a un depuratore questo comporta dei costi sia ambientali che economici quindi abbiamo deciso di trasformare questa grossa cisterna che era in questa posizione trasformarla in una grossa cisterna di accumulo di acqua piovana la cisterna contiene 100 metri cubi d'acqua quindi è una cisterna veramente enorme e abbiamo evoluto tutto il sistema fognario con i degrassatori la vasca IMOF e tutto quanto per farla confluire in questo punto qua e dalla vasca IMOF scendere lungo il terreno di proprietà e costruire un'area di fitodepurazione in fondo dove attraverso un sistema superficiale a flusso verticale depuriamo con l'utilizzo delle piante dei microorganismi che ci crescono all'interno delle ghiaie depuriamo l'acqua e con una piccola pompa la facciamo riconfluire nella cisterna di accumulo il discorso sulle parti dei tetti le parti imparmiabili della pavimentazione tutte le acque di pioggia vengono raccolte in questi due punti obbligati di passaggio dell'acqua e anche queste vengono raccolte nella cisterna d'accumulo abbiamo fatto un calcolo che vedete riportato qua per il quale non vi annoio ma fondamentalmente abbiamo fatto il calcolo delle portate del sistema di irrigazione il fabbisogno irriguo delle varie aree l'agrumeto il frutteto le aree tematiche e quant'altro la capacità come abitanti equivalenti di produrre acque reflue e le percentuali di acque che riuscivamo a recuperare attraverso la fitodeporazione e un calcolo in base alle superfici di superfici impermeabili che potevano far confluire acqua in cisterna rapportato alla piovistà media nei mesi in cui possiamo raccogliere acqua mettendo a sistema tutti questi dati siamo riusciti a farli confluire nel fatto che il sistema mediamente era sostenibile mediamente nel senso che chiaramente ci sono annate che sono estremamente siccitose dove tutto questo sistema va in crisi però pensate in luoghi come questi dove l'unico servizio che arriva è l'elettricità mentre l'acqua viene portata con autobotti e normalmente le acque reflui vengono portate via con autocisterne pensare che l'acqua abbia una seconda vita che prima serva per cucinare serva per lavarsi e poi vada depurata in un impianto di fitodeporazione per poi riutilizzarla in un impianto di irrigazione penso che sia un gesto minimo ma dovuto a un paesaggio che come diceva anche Simonetta prima è uno dei paesaggi italiani tra i primi ad essere a rischio desertificazioni proprio perché il Salento è uno dei pochi luoghi d'Italia che non ha neanche un corso d'acqua e dove la falda freatica è molto utilizzata per l'irrigazione di soccorso si sta abbassando continuamente si sta inquinando tantissimo e sta facendo rientrare acque salate dal mare quindi stiamo sfruttando con l'agricoltura in maniera estremamente forzata tutta questa risorsa stiamo impoverendo ulteriormente questo territorio quindi questa scelta voleva essere proprio un atteggiamento di tipo virtuoso nei confronti della sostenibilità di un paesaggio questo è il risultato della vasca di fitodepurazione quindi la fitodepurazione diventa un giardino tematico una collezione di lavande dove ci sono più di 20 specie diverse di lavande varietà di lavande e fondamentalmente si può camminare tranquillamente perché essendo un sistema di fitodepurazione subsuperficiale le acque reflui non sono in superficie quindi si cammina sopra una ghiaia e a tutti gli effetti sembra un gravel garden ma di fatto sotto ci sono tutte le acque reflui degli ospiti dell'agriturismo e quindi non abbiamo fatto altro che regalare un'altra stanza a questo giardino un altro tema che c'è stato caro in questo progetto è stato quello appunto dello sviluppo dei muretti a secco e della costruzione dei muretti a secco che sono un po' anche la sintesi di questa durezza di questo paesaggio così semplice ma dove una sapienza antica che è quella di girare le pietre nelle mani per collocarle rapidamente nella posizione giusta racconta anche un po' la necessità di fare solo gestualità che siano corrette e siano valide per questo territorio e forse è l'atteggiamento psicologico giusto per riuscire a far rinascere anche a livello agricolo un paesaggio che sta morendo e quindi riuscire a fare quei pochi gesti utili semplici per riuscire a ridare vita a questo territorio qui stiamo costruendo un orto l'orto che abbiamo ipotizzato è un orto che riprende delle antiche misure salentine di fine ottocento e la dimensione complessiva dell'orto è quella di una pezza che sono circa 567 metri quadri e ogni parcella ortiva è di circa una canna che sono 2 metri e 64 di lato quindi abbiamo voluto riportare questo disegno ma questo disegno l'abbiamo voluto tradurre con una tecnica agricola tipica di paesi veramente desertici che è quello dell'aridocultura dove il suolo coltivato è a 20 centimetri di profondità rispetto al piano di campagna e dove tutti questi muretti a secco che sono stati costruiti con la pietra di risulta che è venuta fuori dagli scavi diventano delle forme di condensazione dell'umidità atmosferica di ombreggiamento parziale delle parcelle agricole e anche di facilità di raccolta degli ortaggi camminando proprio sopra questi piccoli muretti l'orto è cresciuto e ha tutto uno sistema di rotazioni culturali per cercare di fare dell'agricoltura sostenibile ma è diventato un importante presidio di conservazione dei semi antichi quindi si stanno preservando delle coltivazioni di semi mensali di ortaggi che la grande produzione agricola sta accantonando e quindi si sta anche mantenendo oltre alla tradizione un patrimonio genetico che forse un giorno tornerà a essere utile quando cercheremo di fare un'agricoltura in un altro modo e quindi tutto questo spazio diventa un luogo di socialità anche perché gli ospiti dell'agriturismo possono raccogliere i prodotti dell'orto e cucinarseli all'interno delle loro ambienti di soggiorno vedete anche i sistemi culturali diciamo che i proprietari sono andati oltre alla coltivazione biologica stanno utilizzando microorganismi effettivi diciamo sono più vicini all'agricoltura naturale di Fukuoka e stanno cercando di prendere modalità di agricoltura molto vicine alla naturalità a questa effettivamente a non utilizzare prodotti chimici ma anche a migliorare il suolo come fonte di energia per le piante e vedete anche le pacciamature fatte con paglia quindi tutti sistemi molto interessanti e l'altro aspetto interessante di questo progetto è che quando siamo arrivati la prima volta erano presenti degli impianti di irrigazione a pioggia c'erano dei piccoli luoghi con dei prati noi abbiamo eliminato tutti i prati perché in un luogo che è a rischio di desertificazione abbiamo trovato che fosse poco etico sperperare dell'acqua potabile o dell'acqua comunque non salata per irrigare dei prati anche perché questo paesaggio i prati non ce li ha e quindi un paesaggio agricolo dove andiamo a inserire tutti i costi per un'equazione voluta dal turismo internazionale che quando si va in vacanza si deve avere il prato al di fuori della propria stanza da letto abbiamo voluto proprio cambiare l'equazione e fortunatamente il frutteto l'agrumeto che sono gli spazi non riempiti da vegetazione da vegetazione mediterranea ma sono liberi e sarebbero dei prati sono dei prati come vedete nell'immagine a sinistra in basso sono dei prati naturali ma veramente naturali ogni anno sempre con con la consapevolezza delle piante mediterranee a primavera in questo periodo lo trovate fiorito in questa maniera tra un mese sarà tutto secco il terreno verrà lavorato si desimereranno i semi per terra e quest'altro anno avremo un altro miracolo di fioritura nel periodo primaverire durante l'estate vedremo il bellissimo colore di terra rossa che è al Salento lavorata che è lì pronta ad accogliere qualsiasi goccia d'acqua che la natura vorrà far cadere su quel territorio quindi riuscire a far diventare virtuose cose che normalmente sono viste come come non accoglienti nei confronti di ambiti turistici qua abbiamo progettato anche tutto il sistema dell'illuminazione e chiaramente in un luogo come questo perso nella campagna abbiamo cercato di ridurre al minimo l'inquinamento luminoso e lavorare moltissimo sull'illuminazione dei materiali l'illuminazione delle pavimentazioni semplicemente per rendere agevole il rientro nelle serate agli ospiti dell'agriturismo ma senza portare via la bellezza della volta stellata durante la notte stiamo lavorando proprio in questi giorni all'ultima fase di questo progetto che ci ha visti frequentare queste aree per molti anni stiamo lavorando sulla trasformazione di questa vecchia piscina in cemento armato che era presente in un'area dell'agriturismo e la stiamo trasformando in una biopiscina depurata appunto in maniera naturale mantenendo questa forma geometrica abbastanza rigida ma come è il paesaggio stesso agricolo salentino molto legato a delle forme geometriche abbiamo studiato appunto un sistema per convertire questa piscina e renderla balneabile e crearci tutto un outdoor che fosse di accoglienza a questo utilizzo quindi degli spazi come vi dicevo prima gestiti in maniera da portare dell'ombra di vegetazione che cresce su delle pergole e lavorando con tutte le modalità e le tipologie di pietra che sono tipicamente di questo territorio quindi il carporo il tuffo la pietra leccese quindi abbiamo usato un po' tutte le tipologie di pietre in base alle cose che volevamo evidenziare questo è lo stato dei lavori siamo a buon punto e credo che entro spero che a giugno diventi tutto operativo e entro fine mese verrà riempita la vasca e piantate tutte le piante acquatiche quindi il lavoro diciamo che sta arrivando a termine e quindi sarà quest'ultimo sigillo su un approccio sostenibile e consapevole nei confronti di un territorio che ha delle sue fragilità che si stanno appunto evidenziando molto in questi anni il secondo progetto che vi mostro è un progetto di tutt'altro genere siamo in zona Rimini quindi in Emilia Romagna quindi cambiamo latitudine è un intervento all'interno di un di un contesto produttivo di grandi arterie di traffico di stabilimenti produttivi o commerciali e in quest'ambito mi piace particolarmente lavorare perché poi sono gli ambiti dove la maggior parte della popolazione lavora e passa le sue giornate almeno le sue giornate da sveglio quindi è brutto vedere una fotografia aerea come questa che ci mostra grandi superfici impermeabili problemi di isola di calore problemi di inquinamento acustico e atmosferico problemi di impermeabilità del suolo di situazioni comunque di disagio abitativo e di vita quotidiana quindi ci siamo voluti avventurare in un progetto che fosse anche in questo caso un cambio di prospettiva e il cambio di prospettiva ci è arrivato da questo progetto questo progetto di ecoarea che è appunto un edificio polifunzionale ma fondamentalmente è un edificio che vuole mostrare modi diversi del costruire più sostenibili ecologicamente è un edificio con un altissimo efficienza energetica è praticamente un padiglione clima è tutto in classe A e questo progetto rischiava di andare a finire con il solito progetto che andava bene all'amministrazione dei degli alberi dei dieci alberi a norma piantati perché si devono piantare il grande prato e finiva tutto in questa situazione invece abbiamo voluto affrontare questo progetto su questo edificio vedete è un edificio che si presenta già molto organico anche lui queste rampe che sembrano dei palchi di una bete che accompagnano la risalita verso i piani i piani alti e il suo involucro che lo riveste completamente e lo rende efficiente dal punto di vista bioclimatico e diventa un edificio particolarmente interessante e qui abbiamo voluto proporre una sorta di modello che abbiamo chiamato un modello per il miglioramento del comfort ambientale e degli spazi aperti urbani e abbiamo voluto mettere un po' in poco spazio tante buone pratiche che potessero diventare un modello per le persone che frequentano convegni e avvenimenti e meeting all'interno di questo edificio tra l'altro Ecoarea ha come sottotitolo Better Living quindi un miglioramento della qualità della nostra vita e quindi era proprio interessante dimostrare che il progetto di paesaggio ha un ruolo molto importante oltre a quello dell'edilizia di migliorare la nostra qualità e qui abbiamo presentato il nostro il nostro concept il nostro concept che appunto mirava a creare dei nuovi ecosistemi urbani un modello dove ci fosse il miglioramento di tutto quello che col passare degli anni è diventato patrimonio di tutti quanti perché tutti quanti parliamo di di queste di questi temi considerate che questo progetto è stato fatto nel 2013 in cui questi temi erano ancora abbastanza cioè fra gli addetti ai lavori erano già conosciuti ma il grande pubblico non era ancora sensibile quindi è importante comunque raccontarli la sfida era ancora più importante perché prima che intervenissimo noi c'era stato un grande evento meteorologico in cui in poco meno di un'ora erano caduti 123 mm di pioggia in questo in questa zona e questa bomba d'acqua quest'enorme temporale aveva allagato tutti i piani interrati dell'edificio dove erano presenti tutte apparecchiature estremamente all'avanguardia appunto per la climatizzazione interna in maniera sostenibile e quindi avevamo fatto un danno enorme quindi una sfida era anche quella di diventare un parco uno spazio aperto che potesse compensare queste problematiche legate ai grossi eventi meteorici la difficoltà di fare tutto questo progetto ma forse anche la sfida interessante è che tutto il progetto è stato fatto in co-working abbiamo prodotto il progetto e abbiamo coinvolto aziende che credessero in questo progetto di modo che tutta la sistemazione esterna diventasse una sorta di showroom di buone pratiche e quindi tutti quanti hanno fornito materiali consulenze e realizzazione semplicemente per dimostrare che si può agire anche diversamente in questi ambiti estremamente minerali estremamente poco confortevoli e quindi tutta l'ottica della progettualità era legata alla biodiversità alla permeabilità dei suoli al creare un ambito esempio di spawn city di permeabilità di mitigazione climatica dell'utilizzo dell'evapotraspirazione ma anche dell'evaporazione come calmierante dell'isola di calore ma anche i materiali che utilizzano materiali o estremamente riciclabili come l'alluminio o materiali che già sono materiali che recuperano materiali di scarti come il legno composito e altre tipologie di materiali il concept è stato presentato alla proprietà fondamentalmente l'obiettivo era quello di creare un grande spazio aperto che diventasse spazio espositivo e spazio per eventi meeting e vernissage e tutto questo fosse realizzato in un involucro verde che mitigasse la presenza delle auto nel parcheggio e mitigasse anche la presenza della grossa arteria di traffico quindi per riuscire a creare spazi di superficie praticabili per le attività e per il posteggio delle auto abbiamo dovuto ridurre notevolmente la presenza di vegetazione però abbiamo usato un escamotage che è stato quello del movimento terra di una duna in terra che parte dal taglio diagonale della vetrata sul fronte dell'edificio arriva a terra parte a quota zero per poi si rastrema crescendo fino ad arrivare a una quota di due metri d'altezza verso il lato autostrada e tutto questo diventa il contenimento di una fascia vegetazionale di una struttura vegetale che serve appunto a creare il contesto per separare gli ambiti di fruizione di questi spazi fondamentalmente l'anima strutturale del progetto è questa una costruzione a secco fatta con dei gabioni riempiti di pietre e la creazione di strategie successive di pietrame che rende perfettamente permeabile tutto quanto e diventa una grande vasca di laminazione delle acque e di infiltrazione delle acque nel suolo appunto tramite l'utilizzo degli interstizi liberi fra una pietra e l'altra e tutto questo rende possibile anche lo smaltimento delle acque in maniera estremamente accelerata in caso di eventi eccezionali il concept fondamentalmente come vedete la superficie dell'edificio è tutto a verde pensile tutte le acque che piovono sul tetto vengono recuperate in una cisterna e servono per l'irrigazione di soccorso sia del prato che delle piante il concept non fa altro che prendere spunto dalla lamina fogliare dalle venature di una foglia proprio per eleggere la foglia un po' a simbolo della sostenibilità ambientale cioè un miracolo a cui assistiamo tutti i giorni quello che un piccolo elemento di un albero come una foglia è in grado di trasformare l'energia solare in energia chimica e trasformare la CO2 e l'acqua in molecole complesse tutto questo la natura lo sa fare l'uomo ci sta provando ma non è così bravo e tutto questo ha un sottoprodotto un materiale di scarto che è l'ossigeno fondamentalmente era una questo progetto voleva appunto dire grazie all'elemento foglia e lo ha riproposto anche nel suo disegno planimetrico questa invece tutta la componente arborea che va a completare l'intervento e aumentare l'ombreggiamento sulle superfici minerali al momento del nostro arrivo il terreno era terreno di scavo ridistribuito sulla superficie quindi estremamente limoso argilloso molto impermeabile quindi il danno era stato creato per quella bomba d'acqua proprio per il fatto che il terreno non era in grado per mancanza di struttura per mancanza di fertilità ma anche per la stessa tessitura che presentava di accogliere dell'acqua al suo interno quindi tutto il nostro lavoro è stato quello appunto di rimodellare questo terreno e di renderlo strutturalmente più poroso e più aggregato questo è lo schema planimetrico dell'esecutivo della piantagione delle piante è fondamentalmente un giardino di erbace perenni voleva anche essere in quegli anni un manifesto dell'utilizzo dell'erbace perenni che non era così diffuso ancora dalle nostre parti e come vedete ci sono i percorsi che continuano la venatura della foglia delle parti pavimentate anche in mezzo alle uole e questi percorsi permettono alle persone di muoversi all'interno del giardino e andare a guardare le piante più da vicino chiaramente essendo una superficie scoscesa che nel punto più alto dialoga con una una gabbionata in materiale inerti in pietra è chiaro che nella parte sommitale le piante scelte avranno delle caratteristiche estetiche e ornamentali ma avranno anche delle caratteristiche di essere meno esigenti in quantità di acqua che necessitano perché siamo vicini a un suolo estremamente drenante e a condizioni di ventosità di situazioni di drenaggio estremamente spinte lo stesso sistema lo vediamo in un'immagine più evocativa con tutta la la vegetazione che è stata messa a dimora in questi in questi punti questo è il lavoro appena completato in fase di completamento quindi quello spazio che vedevate prima è diventato questa questa superficie espositiva contornata da questa da questa lingua di vegetazione e questo è l'effetto penso l'anno successivo quindi con la vegetazione che sta crescendo e con lo spazio che si sta diciamo caratterizzando e sta cominciando ad avere tutti i volumi che servono a dare l'effetto di completezza di questo spazio come vedete è un giardino raccolto che diventa effettivamente come un padiglione di una fiera di una mostra ma in outdoor perché effettivamente è una stanza contornata da muri di vegetazione e questa vegetazione non fa altro che fare il suo cioè crescere e assecondarsi con le fioriture con i viraggi delle foglie con la crescita con i profumi e grazie alla ricchezza della palette vegetale che è stata utilizzata sicuramente abbiamo potuto assistere a un arrivo di tanti insetti utili di insetti pronobi che hanno gradito immediatamente la presenza in mezzo a tutto questo deserto minerale delle aree produttive italiane si sono trovati improvvisamente delle fioriture e degli spazi dove poter fare la loro attività con le piante alcune cose non ci sono venute come avremmo voluto nel senso che uno dei partner che doveva partecipare doveva realizzare in questo spazio una vasca un biolago che dovevamo realizzare provvisoriamente abbiamo deciso di trattarlo a prato perché eravamo fiduciosi che prima o poi l'avremmo realizzato proprio per mitigare climaticamente con la presenza di uno spazio d'acqua anche climaticamente e ulteriormente l'edificio purtroppo in questo momento lo vedete con un prato che è un prato di attesa che comunque viene utilizzato volentieri durante gli eventi la vegetazione come vi dicevo nelle parti sommitali è più legata a una vegetazione di tipo arido quindi vediamo della flomis che è tipicamente una pianta mediterranea dell'ichinacea della valeriana quindi e questo giardino ad esempio la presenza della valeriana che è una pianta biannuale che si dissemina tantissimo è interessante perché è un giardino che cambia anche con formazione cioè si lascia la libertà alle piante anche di spostarsi e di cambiare degli equilibri prestabiliti in fase progettuale quindi non siamo particolarmente rigorosi come dicevo prima la filosofia di fare dei segni decisi sul foglio quando si progetta la parte strutturale del verde dello spazio esterno e lasciare molta libertà e dinamismo alla vegetazione per questo continuo dialogo fra componente naturale e componente antropica queste sono altre immagini in altri momenti in altri momenti della giornata e della stagione per arrivare a un'immagine più invernale dove ci teniamo particolarmente quando progettiamo giardini di erbace perenni che siano interessanti e intriganti anche nel periodo invernale perché poi una volta passato l'autunno abbiamo 4-5 mesi dove l'aspetto deve essere interessante quindi ci piace giocare con i colori dei fogliami secchi e le infiorescenze che diventano delle punteggiature sulle trame dei fogliami delle graminace ma guardate anche in altro l'architettura della valeriana delle infiorescenze della valeriana che sembrano dei bonsai di baobab o di piante o di piante ad alto fusto della foresta mazzonica quindi diciamo l'architettura anche delle erbace perenni durante l'inverno ha delle caratteristiche ornamentali molto importanti è complicato riuscire a fare un giardino di erbace perenni che sia ben combinato nei fogliami nelle fioriture nelle successioni delle fioriture e che funzioni anche nel periodo invernale però sono sfide che ci continuano a far studiare che ci continuano a far provare e sono degli stimoli sempre interessanti nel progetto anche in quest'altro progetto che è il progetto per il quartiere generale della Scrigno l'azienda famosa per le porte a scomparsa il quartiere generale si trova a Sant'Arcangelo di Romagna e qui abbiamo collaborato con questo studio di architettura ma in una maniera abbastanza insolita per un paesaggista perché si tratta di un edificio di archeologia industriale l'edificio storicamente era un edificio dove si producevano mattoni le colline che vedete retrostanti sono colline d'argilla da cui si estraeva l'argilla e venivano impastati e appunto realizzati in mattoni fondamentalmente la parte produttiva dell'azienda è delocalizzata non si trova più in questa sede storica qui ci sono gli uffici del quartiere generale e questi fondamentalmente sono dei magazzini ci troviamo di fronte a un enorme piazzale in asfalto quindi condizioni climatiche e di sostenibilità ambientale ridotte al minimo ma anche di sopravvivenza di un operaio che passa dal magazzino e va negli uffici senza borraccia in piena estate probabilmente è anche complicato attraversarlo questo piazzale e la sfida che la proprietà ci ha messo di fronte è stata quella di progettare un parco aziendale ma il parco aziendale doveva confluire anche in un nuovo showroom e un nuovo spazio espositivo dei prodotti aziendali ma anche un luogo in cui fare aggiornamento in cui fare corsi di formazione e portare le professionalità all'interno dell'azienda quindi la cosa strana è che il progetto architettonico di questo spazio di showroom e centro conferenze per la proprietà doveva partire dal progetto di paesaggio e quindi non avendo formazione di architetti architetti che costruiscono edifici da prima mi sono mostrato riluttante nel senso che non è il mio lavoro poi in realtà abbiamo dato questa quest'idea che non faceva altro che da progetto di paesaggio non faceva altro che confluire in progetto di edificio quindi in maniera insolita il progetto di paesaggio è stato pensato prima del progetto architettonico che non succede quasi mai quindi è stata un'anomalia che mi piace raccontarvi perché è successa nella mia professione in questi anni solo in questo caso ed è stata una situazione strana fortunatamente gli architetti che hanno preso in mano poi il progetto architettonico l'hanno migliorato notevolmente perché è il loro mestiere e siccome sono anche uno studio di architettura che stimo tantissimo sono riusciti a collaborare continuamente con il nostro progetto di tutta la sistemazione esterna e quindi c'è stato un dialogo continuo sulle scelte dei materiali sulle scelte progettuali e quindi il tutto è stato un progetto come dovrebbero essere i progetti di questo genere il concept è molto semplice fondamentalmente siamo in ambito agricolo dove l'unica fabbrica storicamente esistente era la fabbrica dei mattoni col passare degli anni la fabbrica dava lavoro la campagna si è urbanizzata in maniera irregolare rubando suolo all'agricoltura e costruendo in maniera un po' irregolare abitazioni diciamo che per gran parte di persone che lavoravano all'interno dell'azienda quindi fondamentalmente si è creata una sorta di conflitto cioè un'unica azienda in mezzo a un paesaggio che forse è agricolo ma sta diventando residenziale che ha una chiesa ha delle scuole quindi vedere questa promiscuità fra tante destinazioni del territorio era un po' pesante e abbiamo cercato di riappecificare questi questi due questi due ambiti quindi abbiamo voluto fare semplicemente prendere la texture del paesaggio tipico che c'è al di fuori dell'azienda e l'abbiamo voluto portare all'interno dell'azienda e quindi prendere il seminativo e farlo diventare prato prendere il bordo dei fossi e farlo diventare giardino di graminace prendere gli orti e farlo diventare giardino di erbace perenni prendere i filari alberati di pioppi e riportarlo come segno prioritario di alberata all'interno dei percorsi questo è un rendering fatto in fase in fase progettuale come vedete il piazzale viene trasformato diciamo sostanzialmente ma oltre al concept che parte dal paesaggio del giardino dell'agricoltura all'esterno parte anche dalla trama dei pilastri di questa edilizia produttiva con questo reticolo di pilastri verticali non facciamo altro che riportarla al suolo al suolo facciamo una cernita di quali sono i segni che vogliamo mantenere ma in questa scacchiera enorme che andiamo a costruire sposiamo perfettamente il reticolo dei pilastri e ci portano alla costruzione di tutto il disegno il disegno che viene tradotto sul posto e divenne un tema che deve conciliare anche la funzionalità dell'utilizzo di questi spazi fondamentalmente le connessioni showroom sala conferenze uffici uffici magazzino quindi tutto questo reticolo molto formale molto regolare quasi da card documano di un castrum romano in realtà viene anche negato da alcuni passaggi che sono perfettamente diagonali su questa orditura e sono diagonali perché è il percorso più breve che deve fare l'operaio dal magazzino per andare all'ufficio quindi ci sono anche delle funzionalità che vanno rispettate una grande lama d'acqua percorre e accompagna il visitatore che arriva allo showroom o il corsista che viene al corso di aggiornamento e serve appunto per mitigare insieme a tutta la vegetazione che è stata inserita nel progetto a mitigare l'isola di calore e diminuire le temperature percepite all'interno di questo spazio come vedete la vegetazione il prato viene raccontato come delle delle baulature volutamente forzate che dialogano sia con le coperture degli stabilimenti ma dialogano anche con la storica gestione della piantata emiliana romagnola che prevedeva dei campi leggermente baulati che facevano confluire a destra e a sinistra nei fossi le acque e di solito c'erano dei filari di vite maritate con i gelsi con gli aceri eccetera quindi questa idea di volere ricreare questo terreno comunque che gestisce le acque e non lascia diciamo morire l'acqua sul posto e questa vasca che sfrutta un dislivello di circa 40 cm ha uno sfioro in fondo e dove l'acqua sparisce un po' come nel vicino fiume Marecchia che è un fiume simile al tagliamento un fiume di fatto di ciotoli dove gran parte del fiume scorre ipogeo che non si vede quindi l'idea è di mettere questi ciotoli di pietra per dare appunto un'evocazione del fiume che continua all'interno del suolo e pensate che per fare questo progetto abbiamo praticamente desigillato una superficie di 6.000 metri quadri di asfalto e quindi è stato un intervento piuttosto importante e sicuramente l'aspetto della sistemazione ha cambiato completamente la percezione di tutto lo spazio è molto interessante vedere come lo utilizzano anche chi lavora all'interno dell'azienda perché durante la stagione estiva si vedono persone che la pausa pranzo la fanno in giardino stanno fuori quindi vanno a vedere come si evolve il giardino e cercano di seguire un po' tutta l'evoluzione di quello che gli capita attorno come vedete lo showroom è stato costruito e si è ricreato un piano terrazzo che come vedremo è stato realizzato con del verde pensile della pavimentazione galeggiante e quello è il luogo dei vernissali per gli aperitivi per gli eventi aziendali che si godono la vista dall'alto di tutto il giardino gli architetti fra l'altro in questa parete ventilata di queste lamine scure non hanno fatto altro che usare i casseri in metallo della ditta utilizzati per essere murati nelle porte scomparsa li hanno verniciati e li hanno utilizzati come una pelle diciamo attorno a degli elementi funzionali come il van ascensore e la scala di sicurezza nel progetto avevamo previsto anche queste travi reticolari che salgono arcuate e dialogano con la curvatura delle coperture degli edifici e corrispondono ad ogni pilastro della facciata e questi si stanno per essere colonizzati dalla crescita di una vita americana che pian piano porterà ombra anche al terrazzo sopra e quindi ibriderà pian piano tutto l'edificio fino a diventare un edificio sempre più verde questo è appunto l'elemento acqua che in virtù del fatto che abbiamo usato materiali molto scuri nel rivestirlo crea questo effetto specchio quindi dilata enormemente la sensazione di spazio fa sembrare questi spazi ancora a livello prospettico più profondi e la percezione dello specchio d'acqua lo si ha da varie situazioni e dialoga continuamente con con il filare di pioppi bianchi bolleana o con il giardino pensile appunto dall'alto della zona vernissage aperitivi per vedere tutto il giardino dall'alto il giardino pensile come vedete fondamentalmente è incastrato nello spessore del solaio e sono tutte piante particolarmente poco esigenti perché si tratta di stratigrafie piuttosto esigue e quindi si è utilizzato tutta vegetazione estremamente rustica e in grado di vegetare in queste in queste situazioni per le pavimentazioni abbiamo utilizzato varie tipologie di materiali preferendo di utilizzare preferendo la colorazione grigia proprio perché il tema costruttivo del di tutta la parte minerale del progetto dialogava con i pilastri in cemento del palazzo da coltraltare a livello planimetrico abbiamo la vegetazione che contrasta con questo grigio perché porta fioriture fogliame e esuberanza vegetale d'altro canto le tamponature dei pilastri sono fatti in mattoni realizzati con la stessa argilla del luogo che si infiammano durante il tramonto e durante le ore del tardo pomeriggio quindi diciamo il grigio voleva essere un elemento di contrasto fra questi due eventi che si sviluppano quello della crescita delle piante e del cambio della colorazione della luce durante le ore serali come vedete abbiamo usato anche qui tecniche di piantagione utilizzando ghiaie e quindi possibilità di pacciamare il terreno in maniera che venga mantenuta l'umidità del suolo e vengono contenute le crescite di malerbe e il risultato è stato sicuramente molto efficace anche a distanza di anni mi capita spesso durante il periodo in cui le aziende che fanno manutenzione vanno a fare la manutenzione annuale tutto quanto si sta evolvendo nella maniera giusta ed è bello ogni tanto per me che non è vicino dal mio luogo di lavoro ogni tanto fare una deviazione e andare a vedere cosa sta fiorendo e come sta sviluppando il giardino vedete qua in questa foto scattata un po' qualche anno dopo dove la vegetazione sta prendendo sempre più piede e anche la vita americana sta colonizzando le travi reticolari questa è un po' la palette vegetale utilizzata in questo giardino che non vi ho detto ma è un giardino che nasce al di là dell'ultima duna che è l'ultima duna a Prato che è quella più alta e non è percepibile dall'ingresso quindi questo giardino lo si scopre solo quando si è di fronte all'ingresso dello showroom lo showroom che è tutto vetrato e quindi quando uno fa una conferenza lì dentro oltre a sentire il relatore si può distrarre piacevolmente girando lo sguardo e vedendo questo giardino di erbacce perenni che cambia continuamente in tutte le stagioni perché c'è una sequenza di fioriture di viraggi anche autunnali e invernali dei fogliami che lo rendono sempre piuttosto attrattivo e quindi è diventato una sorta di giardino segreto perché si scopre solo all'ultimo momento e abbiamo realizzato anche dei percorsi e delle sedute all'interno perché può essere quel posto dove in pausa convegno fa piacere distogliersi e fare due chiacchiere in un ambito che sia anche confortevole dal punto di vista estetico ma anche psicologico diverso trattamento sempre utilizzando erbace perenni e qualche arbusto è quello sul fronte dell'ingresso dove questo percorso diagonale fatto in listoni di cemento prevede un percorso diagonale che è il percorso che vi dicevo che rompe l'orditura geometrica ortogonale di tutto il progetto per portare rapidamente la connessione di due ambiti aziendali qui la percorrenza è molto più rapida quindi è molto meno intimista perché chi lavora si muove rapidamente su questo percorso ma soprattutto dialoga con l'ingresso degli automezzi dialoga con l'ingresso delle auto quindi la percezione diventa una percezione meno attenta e più rapida quella del movimento sul mezzo meccanico e quindi il pennello che abbiamo usato è un pennello più grosso un pennello che ci ha fatto fare dei segni vegetali molto più importanti che siano percepibili da lontano siano percepibili anche da chi è distratto e non si concentra sul giardino e questo come vedete è un atteggiamento completamente diverso dal giardino che abbiamo visto prima che è molto più ricco molto più caratterizzato da abbinamenti e associazioni vegetazionali particolari qui vedete che si parla di onde di vegetazione molto più molto più distribuite e molto più importanti qui lo vedete in relazione all'azienda al paesaggio che c'è dietro quindi questo dialogo continuo fa il paesaggio costruito e il paesaggio agricolo della prima collina e qui intravedete già il cambio di colorazione delle tamponature in mattoni dove effettivamente il contrasto sia delle piante che si infiammano soprattutto le fiorescenze delle graminacee ma soprattutto anche i mattoni che diventano di un colore di un di un rosa acceso e quindi il grigio non diventa altro che un diciamo uno spartito su cui fare diventare protagonisti altre tipologie di colori e qua vediamo il tema che vi raccontavo prima parlandovi del progetto di Ecoaria che un giardino deve essere bello anche nel periodo invernale qua ho approfittato una mattina aspettavo una gelata invernale mi sono alzato di buon mattino proprio per andare a vedere qual era l'effetto di una di una bella gelata in un giardino in pieno inverno e vedete che effettivamente non c'è un calo di ornamentalità del giardino per nulla durante l'inverno anzi lavorando con buona parte di graminacee succede che il sole che non è più verticale come durante l'estate ma ha un'inclinazione molto più più bassa quindi più 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 rasente le infiorescenze il risultato diventa sicuramente più efficace e poi diventa interessante anche tutto l'organico come le foglie dei pioppi che cadono all'interno della vasca durante l'inverno ghiaccino e diventano una sorta di 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 pavimento organico al di sotto di questa lastra di ghiaccio e diventa un qualcosa di estremamente efficace vedete anche la le vetrate della della sala conferenze che sono fanno da da sfondo a questa a questa vegetazione che si sussegue nella sua crescita e nelle fioriture dove ci sono anche piante molte molto rustiche come vedete del finocchio selvatico che viene piantato come pianta diciamo prioritaria di questa composizione di questo angolo di aiuola quindi anche piante che normalmente non vengono considerate particolarmente nobili queste sono un po' le viste delle superfici ondulate di questa di questa di questi spazi vuoti che preparano alla allo scenario finale del del giardino segreto e qui un po' i cambiamenti durante l'autunno vedete come il viraggio delle foglie diventa diventi estremamente scenografico anche in giornate dove la luce non è bellissima però il fatto che ci sia tutto questo questo viraggio autunnale rende interessante anche questo aspetto considerate il miglioramento climatico oltre che di questo spazio rispetto a quello che era in origine considerate quanto anche a livello aziendale quando le persone che lavorano tutti i giorni in un ambito come questo vedono che si investe sulla loro struttura sugli spazi dove si lavora tutto questo aiuti anche una produttività in maniera trasversale nel senso che ci si sente parte di una cura ci si sente parte di un impegno di un modo di concepire il mondo in maniera un po' diversa e quindi tutto questo ha dei benefici che non sono solo quelli di tipo ambientale ma sono anche quelli di tipo psicologico e non ultimo anche produttivo questa è l'immagine per antonomasia di quel fenomeno che vi raccontavo dove il grigio diventa il colore secondario dove l'acqua con la sua capacità di rispecchiare di dilatare gli spazi diventa anche un amplificatore di colore e quindi ci riesce a portare a una situazione ancora più interessante dal punto di vista della luce quindi tutto il cambiamento nelle varie ore della giornata fino a arrivare agli effetti notturni dove abbiamo cercato di creare un ambito che avesse una sua scenografia ma che fondamentalmente non facesse dell'inquinamento luminoso anche perché le norme contro l'inquinamento luminoso sono piuttosto stringenti nella regione Emilia Romagna e abbiamo creato uno spazio che fondamentalmente illumina gli spazi di percorrenza perché poi i luoghi di lavoro in realtà durante l'inverno si lavora anche in orari in cui è notte quindi l'illuminazione è tutta giocata sul valorizzare gli elementi costruttivi e gli elementi di percorrenza quindi più giocata sulla parte minerale di quanto non lo sia sulla parte vegetale effettivamente la parte vegetale diviene la silhouette e diciamo il contorno a un'illuminazione di tipo più più scenografico e funzionale questa è un'immagine a cui tengo molto perché è il giorno dell'inaugurazione in cui sono stati invitati tutti i progettisti ma anche tutti gli operai e i dipendenti degli uffici e sono venuti con tutte le famiglie e la cosa più bella del giardino appena finito dell'edificio appena risistemato è stato che i bambini come si sono stancati di stare a tavola e mangiare piadina con i familiari si sono portati tutti nel giardino e vi assicuro che le dune a Prato sono diventati il gioco e il divertimento per eccellenza per i bambini che erano tutti lì a divertirsi quindi uno degli obiettivi che era quello di riavvicinare lo spazio aziendale al territorio alla cittadinanza farlo diventare uno spazio di prossimità anche per le famiglie in quel momento è stato veramente una soddisfazione importante l'ultimo progetto di cui vi parlo è l'ha accennato prima Simonetta presentandomi è appunto questa kermesse di una competizione che si fa a Eboli nella città di Eboli organizzata da un'associazione culturale che si chiama Radicity la manifestazione si chiama Dirt of Eboli che abbiamo appunto abbiamo vinto nel 2019 vengono invitati diversi paesaggisti a realizzare in degli spazi in dei vuoti urbani all'interno del centro storico di Eboli per interpretare quegli spazi e riattivarli fondamentalmente il motto di Radicity è la rigenerazione urbana ecosostenibile quindi il tema che avevano dato per la nostra edizione era quello appunto di fare una rigenerazione ma di creare anche biodiversità di creare connessioni sia per gli insetti utili per gli uccelli per la fauna utile ma anche creare riconnessioni per la popolazione popolazione che è abbastanza interessante come come tipologia di di organizzazione nel senso che come quasi tutti i centri storici d'Italia dell'Appennino o comunque molti centri storici soffrono di un abbandono del centro storico per per complessità di servizi ai cittadini e quindi è un centro storico che è stato in parte abbandonato in parte abbandonato anche perché durante il passaggio del fronte della seconda guerra mondiale molte bombe hanno colpito le case e alcuni di questi buchi sono stati creati dai bombardamenti della seconda guerra mondiale altri buchi sono stati creati dal terremoto dell'Irpinia che ha fatto crollare altre case e quindi tutta questa insicurezza ha portato non alla ricostruzione ma ha portato all'abbandono del centro storico essendo sopra una fertilissima pianura eboli accoglie tanti lavoratori dell'agricoltura che spesso sono nuovi italiani venendo da altri paesi e sono stati fra i colonizzatori di questi spazi abbandonati del centro storico quindi il centro storico di eboli oggi vede giovani che hanno voglia di cambiare il centro storico degli anziani vede questi nuovi italiani che stanno capendo il loro modo di vivere all'interno dell'Italia e di fare società all'interno dei nostri spazi cittadini e questo era il concept che abbiamo presentato appunto come diceva Simonetta intrecciare il tempo era intrecciare il tempo il significato perché volevamo raccontare queste stratificazioni che c'erano in questo luogo questo luogo era uno spazio vuoto dove erano state accumulate avevamo trovato delle foto storiche dei bombardamenti della seconda guerra mondiale le macerie dei crolli durante i bombardamenti ma anche le macerie dei crolli durante il terremoto ma anche le lavorazioni della ricostruzione quindi eravamo certi che scavando in questo suolo avremmo trovato un sacco di materiale diverso la nostra idea era quella di creare un giardino semplice che fosse un percorso una piazza percorso un passaggio che permettesse anche la sosta che in qualche modo avesse un albero principale abbiamo pensato a un arancio amaro che fosse il fulcro di tutta la composizione e questo fosse anche il luogo che tutte le case attorno vedessero come giardino loro perché tutte queste case come nei centri storici antichi italiani normalmente non hanno giardini e quindi si affacciano su strade e quindi questo è diventato un po' il giardino di tutti quanti e quindi ci sono state delle dinamiche anche interessanti che si sono svolte proprio a livello umano in alto a sinistra vedete la foto che ci è stata fornita per iniziare a ragionare sul progetto poi ci sono i primi botti progettuali qualche rendering di sviluppo di questa seduta che diventa un taglio geometrico che divide la scarpata in due quote la seduta diventa quel mezzo che permette di avere due piani sfalsati e questi due piani diventano seduta luogo di incontro ma anche luogo di continuamento della vegetazione l'immagine in basso invece è il lavoro appena terminato considerate che per realizzare questo concorso si mandano i progetti e la cosa entusiasmante è che i progettisti lavorano anche fisicamente nel realizzare il progetto viene messa a disposizione un'azienda vivaistica sorteggiata quindi non si hanno rapporti lavorativi non ci si conosce neanche e si hanno due giorni e mezzo per fare tutto il lavoro quindi è un è un intervento molto intenso diciamo che è stata una una bella due giorni e mezzo di palestra anche perché noi eravamo a metà al test del paese e la strada di accesso non è carrabile quindi tutti i materiali che abbiamo portato su li abbiamo portati con la forza delle braccia e il progetto è dovuto diventare un progetto estremamente di economia circolare perché tutto quello che trovavamo discavato lo abbiamo riutilizzato all'interno del progetto perché portarlo via costava troppa fatica e comunque portare altro materiale a sostituzione di quello asportato sarebbe costata ore di lavoro e fatica il questo è un rendering complessivo di un'ambientazione del progetto e un'altra parte del concept era quella di creare un reticolo di drenaggi delle acque che facessero confluire tutte le acque superficiali che nelle poche piogge che arrivano confluissero nel punto dove era stato piantato l'albero e infatti l'albero è stato piantato nel luogo di massimo impluvio di tutta la realizzazione di fianco a una griglia di raccolta del troppo pieno delle acque quindi già i concetti di aridocultura storici che vengono ripresi e riproposti in pensiamo di nuovo a laureano che dice il concetto di osi è il concetto che dobbiamo usare per riuscire a sopravvivere qui sono tutti temi legati alla biodiversità al fatto che la nostra seduta utilizzando materiali di risulta ricavati dagli strati sottostanti materiali macerie eccetera è diventata una seduta piena di interstizi proprio per generare un condominio di insetti di insetti utili un luogo di rifugio dei gechi delle lucertole quindi incrementare anche la biodiversità inoltre con la collaborazione di Leonardo Blanco che è un artista che ha collaborato con noi a questo progetto abbiamo inserito dei totem in materiale riciclato in legno dove all'interno sono stati costruiti dei nidi per varie tipologie di uccelli e anche dei nidi per insetti utili l'idea era quella proprio rigenerativa che questa venatura e questi percorsi che partivano da questo luogo al centro di tutto il complesso del centro storico di Eboli diventasse una sorta di radicazione di crescita e di diffusione all'interno dello strato diciamo tutto del centro storico questi sono i momenti dell'arrivo sul cantiere i picchettamenti e varie fasi di lavoro vedete tutto è stato fatto assolutamente a mano perché un escavatore non poteva arrivare in cima a questi scalini e quindi è stato tutto lavorato a mano ed è stato un lavoro estremamente zardinistico ma anche ci sentivamo in qualche modo come degli archeologi perché scavando trovevamo banchine di finestre più si andava in basso più si trovava resti di edilizia di qualità cioè risalenti al bombardamento della seconda guerra mondiale più si stava in superficie più si trovavano bottiglie o resti delle lavorazioni questo è il progetto completato e quindi questo giardino che vi dicevo vedete quanto si affacciano tutte le case su questi su questi spazi infatti non ci mancava mai un buon caffè a tutte le ore del giorno perché alla fine tutti quanti simpatizzavano per noi per il nostro lavoro e quindi era diventato effettivamente molto confortante anche il loro utilizzo qua vedete dei particolari dei totem con i nidi per insetti utili per i menotteri e altri insetti che possono essere utilizzati e qui il recupero del materiale di risulta vedete la faccina di un gatto trovata in ceramica trovata negli scavi che è stata messa in bella vista nel gabbione proprio per fare vedere una sorta di stratificazione che intreccia effettivamente il tempo questa stratigrafia culturale attraverso lo scavo quindi anche se non sono scavi pregiati sono scavi comunque che raccontano una storia la scelta di due materiali che è stata fatta cioè la scelta del 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 coccio spezzato che si è stato fornito da una come scarti di un'azienda che produce pavimenti in cotto artigianale e della ghiaia che ricorda invece il cemento sgretolato voleva essere rievocativo effettivamente dei bombardamenti e delle macerie dei coppi dei tetti che erano stati abbattuti dal terremoto e dei bombardamenti ma anche della presenza storica di alcune fornaci romane poco distanti e del vicino museo archeologico che raccoglie tante tanti vasi e prodotti nella zona quindi c'era questo cambio materico anche legato alla storia del posto qua vedete altri esempi del del gioco di materiali della vegetazione che creano il disegno complessivo e altri particolari dei condomini per insetti e per animali di piccola taglia che si possono andare a rifugiare all'interno di questo muro di contenimento vedete nell'immagine in bassa sinistra che un vecchio bordo di un water di recuperato inserito in quella posizione può diventare uno splendido luogo dove un immenotero predatore può andare a fare il suo nido di fango e sentirsi protetto al suo interno le sedute sono delle sedute che seguono l'andamento del terreno quindi ci sono le sedute per gli adulti ma ci sono anche le sedute per i bambini perché seguendo l'inclinazione del terreno ci sono delle sedute che sono adatte per gambe più corte per femori più corti e quindi c'è anche questa possibilità di dialogo e di spazio all'interno dell'intervento siccome vi ho parlato in questo intervento sempre di consapevolezza questa è un'immagine fatta dal drone che ci ha anche emozionato la prima volta che l'abbiamo vista perché è una vista che noi non potevamo avere però avendolo progettato e come spesso si progetta in pianta vederselo realizzato in pochi giorni come si era pensato e vederlo dialogare così bene con i colori della città dei tetti e dei pavimenti ci ha dato una certa emozione la cosa che volevo dirvi è che di fronte a tutta questa consapevolezza di tutto quello che si deve fare ed è bene fare alla fine le cose più belle succedono in maniera inconsapevole e qui ci sono successe due storie che vi voglio raccontare rapidamente una è che presi dalla nostra voglia di finire il lavoro e lavorando all'acremente in tutti questi giorni ci siamo trovati un ristoratore che è venuto da noi e ha detto come posso aiutarvi e ho un'ora e mezza di pausa per tornare a lavorare nel mio ristorante cosa posso fare e questo è venuto per due giorni a lavorare con noi e quindi capendo perfettamente qual è lo spirito rigenerativo di un centro storico cioè capire che una manifestazione come questa lavora per tutti i cittadini e quindi è stata una situazione che inconsapevolmente ci si è trovata di fronte facendoci molto piacere l'altra cosa che è ancora più inconsapevole è che noi lavorando per circa per quei due giorni e mezzo all'ultimo piano dell'edificio più alto ci abita una vecchia signora questa vecchia signora ha una carrucola alla finestra dove probabilmente con un cestello porta sul cibo e le cose di prima necessità e noi essendo all'ultimo piano guardando molto suolo e sottosuolo non l'avevamo mai nuotata come abbiamo terminato il lavoro e ci stavamo rilassando sulle panchine appena finite e sentiamo dall'alto la signora che ci dice che bello nessuno aveva mai fatto niente e siccome era una signora di una certa età ci immaginiamo che abbia probabilmente una memoria storica di quel luogo molto importante per noi quello è stato il premio più importante di tutto questo lavoro perché è stata una soddisfazione enorme pensare a una signora che è obbligata a stare in quella stanza e noi siamo stati gli artefici di un cambiamento di visione di uno spazio esterno che potrà diventare uno spazio fruito dalle persone e quindi la signora potrà vedere le persone che lo vivono questo spazio e pensato in periodi di pandemia dove effettivamente molte persone non hanno potuto fruire visivamente di spazi belli di spazi con vegetazione di spazi di socialità effettivamente assume ancora ancora più importanza questo questo tema io ho terminato vi lascio con questa immagine un po' che raccoglie in maniera sintetica il nostro approccio che è quello di fare dialogare il costruito con il vegetale in tutte le sue stagioni e un po' di riferimenti per se avete interesse ad approfondire i nostri progetti e altri aspetti della nostra attività vi ringrazio per l'attenzione se c'è spazio per delle domande sono qui disponibile a rispondere molto volentieri grazie 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 simonetta non voglio aggiungere molto anche perché voglio lasciare la chiusura a Nicoletta Bocardi però appunto volevo siamo già come dire avvicinandoci alla fine sono quasi le sette però immagino dovrei riprendere un momento fiato e ritenuto queste due ore di serratissimi con un sacco di spunti concetti interessanti io credo che quella così immagine che ha dato simonetta all'inizio dell'architetto paesaggista del paesaggista come un'attitudine beh ovviamente come dire Filippo la incarna in maniera così perfetta bellissimi disegni c'è una grafica meravigliosa bellissime foto una meravigliosa esposizione per cui non raggiungo altro chiedo solamente se ci sono domande quindi aprite i microfoni per qualche ultima domanda e poi ci salutiamo nessuno ha qualche curiosità siete rimasti tutti beh devo dire io sono rimasta come dire attoente ovviamente dalla bellezza di questi progetti questa finezza dei vitali tecnici che appunto non sono mai tecnici perché coniugano in maniera così sapientissima questi doppi aspetto della della natura dell'artificialità veramente veramente meravigliosa io a parte l'ultimo gli altri tre progetti li conoscevo perché l'ha detto Simonetta sono stati presentati all'interno della rivista di architettura del paesaggio all'interno della comunità di azione appunto l'ho lavorato fino al 2019 e quindi conoscevo questi progetti ma sentirmi descrivere dall'autore veramente è stata tutta una cosa differente qualcuno ha qualche domanda curiosità da porre a Filippo qualche considerazione ho speso tutti ho speso un'osservazione certo vabbè innanzitutto i complimenti è stato molto interessante molto bello volevo soltanto fare un delle considerazioni per quanto riguarda il lavoro sul Salento bellissimo io sono pugliese innanzitutto i complimenti per aver tolto i prati insomma perché proprio non ci stanno nella nostra regione però poi volevo soltanto fare delle puntualizzazioni quando lei parla di questa terra così ad elevato rischio di desertificazione che è sicuramente vero però volevo puntualizzare comunque il Salento è vario nel paesaggio ma anche negli aspetti climatici diciamo che quello che questo assunto per quanto può essere vero siccome spesso si tende a dire questa cosa qui non è vero per tutta la parte diciamo del Salento perché c'è un regime pluviometrico pluviometrico soprattutto molto vario e per quanto è molto vero per quanto riguarda la parte il settore ionico ionico salentino non lo è affatto per il settore del Capodotranto dove piovono circa 800 mm all'anno che è uno insomma è uno dei punti più piovosi dell'intera regione poi mi sentivo non per fare uno senso siccome la sento sempre questa cosa però credo che sia opportuno sempre precisare poi per quanto riguarda gli aspetti dell'agricoltura logicamente che sono in forte crisi e condivido la sua lettura nel senso che questa monocultura così esasperata soprattutto aggiungerei lei l'ha detto insomma in modo nel discorso però io credo che l'aspetto principale del del depredimento è il progressivo la progressiva intensivizzazione delle pratiche culturali perché poi quegli olivetti non erano così fino a 30 anni fa se lei come ha detto lo frequenta da un po' di tempo il Salento avrà visto sicuramente come il tavoliere salentino è andato impoverendosi nella nei livelli di biodiversità era molto più ricco molto più vario e inevitabilmente ora è più fragile questo sistema quindi sì l'agricoltura è in crisi però comunque il Salento è ancora una terra molto che c'è che c'è un sacco di eccellenze pensiamo al distretto del vino la zona di Veglie di Salice Salentino quindi sì è vero però ecco mi sono sentito soltanto di fare queste puntualizzazioni fermo restando che è stato molto bello e le faccio i complimenti per i suoi lavori l'ho apprezzato tantissimo grazie sono sono d'accordissimo con quello che ha puntualizzato è verissima anche questa differenza pluviometrica fa il versante ionico e quello diciamo del della otrontoleuca dove effettivamente piove di più e si vede anche a livello di vegetazione diciamo che io sono stato un po' diciamo volendo essere di stimolo a migliorare l'atteggiamento nei confronti dell'agricoltura anche perché non ho voluto approfondire il tema della direzione che qualcuno vuole dare all'agricoltura salentina come ricostruzione del post Xilella quello di riuscire a fare agricoltura olivocultura più intensiva ancora perché effettivamente è un territorio estremamente ricco e ha bisogno solo di un rispetto delle sue potenzialità e delle sue risorse perché in equilibrio con quelle risorse è un territorio che può dare tanto quindi ho voluto enfatizzare i limiti semplicemente per far capire che muovendosi bene in quei limiti lì si riesce ad avere un territorio in equilibrio e di qualità cercando di sfruttare oltre i limiti con irrigazione presa in falda con trattamenti diserbanti come si sono spatti negli ultimi anni perché non si aveva più voglia di raccogliere in una certa maniera quindi diserbo in tutti i periodi di raccolta dell'oliva quindi atteggiamenti che hanno veramente impoverito il suolo perché tradizionalmente c'erano gli animali prima di tutto che lavoravano nei campi che pascolavano quindi c'era un apporto organico completamente diverso i terreni venivano più lavorati quindi diciamo che giustamente il problema xylella lo chiamiamo noi per comodità problema xylella ma in realtà è un complesso di fattori e probabilmente la sensibilità che le piante d'olivo hanno avuto dopo anni centinaia di anni di crescita tranquilla in questi ruoghi sono dovuti a un trattamento sbagliato nei confronti del suolo e delle risorse del suolo però tutto quello che ha detto lo condivido perfettamente grazie anche io condivido questa sua puntualizzazione grazie vedo che c'è anche una domanda in chat da Alessandra Aires Filippo che chiede se il giardino di Eboli che nasce come temporaneo esiste ancora ma in realtà la richiesta che il concorso ha fatto era di essere non temporanei di fare un qualcosa costruibile in due giorni e mezzo con budget ridottissimi che però rimanesse come eredità come cura dei cittadini che devono prendersi cura insieme a delle associazioni della gestione di questi spazi la cosa che mi ha fatto piacere è che alcuni amici di Eboli a Natale ci hanno mandato le foto e quel luogo che era fondamentalmente il luogo dei bisogni dei cani e dei gatti prima che intervenissimo noi su quello spazio la foto che ci hanno mandato nel periodo natalizio è che i cittadini avevano fatto il presepe all'interno del giardino ai piedi dei totem dell'artista che avevamo coinvolto quindi in qualche maniera c'è stata effettivamente una un'appropriazione dei cittadini di questo spazio dopodiché credo che non sia completamente accompagnato ha bisogno ogni tanto di qualche manutenzione ma speriamo che riesca a trovare un suo equilibrio a basso manutentivo e che possa diventare un bel giardino anche non troppo ordinato che riesca a essere in qualche maniera ruvido ma accogliente però è ancora lì faccio notare che non ho mai detto resiliente in tutt'oggi che non è facile bene ok allora intanto voglio ringraziare prima di tutto Filippo che è stato bravissimo i suoi progetti come sempre sono veramente molto interessanti e sempre emozionanti è stato anche bravissimo nel rispettare i tempi nonostante il numero e la passione con il quale ha descritto i suoi progetti devo dire che il miglior inizio di questo per il nostro ciclo di incontri primaverili non poteva esserci io vi do appuntamento al 10 di giugno dove ci sarà l'altro socio di IAP Marco Pozzoli che presenterà i suoi giardini volevo fare anche un ringraziamento ai due ordini che ci hanno supportato cioè l'ordine degli architetti di Pistoia di cui anche io faccio parte e vedo con piacere che ci sono molti colleghi e l'ordine dei dottori agronomi forestali di Firenze grazie a tutti io vi ringrazio per l'invito è stato un piacere ho sentito tante belle parole su di me che non mi hanno imbarazzato sono tutte vere io credo quindi una grossa carica di autostima mi avete un grosso applauso Filippo un grosso Andrea corale corale palesati Andrea io non si palesa dietro a IAP formazione ma voglio ringraziare Calerina Biancoli per aver gestito tutta questa perta però non è sempre grazie davvero a tutti a Filippo e Simonetta grazie buona serata grazie a presto buona serata a tutti grazie